Ciao popoli LegaNerd! Ben tornato, finalmente, finalmente ritorniamo, finalmente ci rivediamo, finalmente ritornano le nostre rubriche, le nostre rubriche della settimana, insomma in questo caso ritorna BingeStream, la rubrica dove parliamo sempre di serie tv, serie tv on demand, a volte anche film, sempre on demand, quindi appartenente al mondo Netflix, Amazon, e tra l'altro visto che proprio due giorni fa, anzi ieri notte diciamo, l'altro ieri notte, si sono conclusi la settantunesima edizione degli Emmy Awards, quale momento migliore per ritornare totalmente a bomba? Direi che questo era il momento perfetto per tornare da voi, siamo assenti da non so quanto tempo, talmente tanto tempo che non mi ricordo, quindi è decisamente troppo tempo. Oh non ci si crede, ciao ragazzi, buon salve, ciao White, ciao Cecilia, ciao Mattia, se è vero non ci si crede, alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo ritornati anche qui su Lega Nerd e riprendiamo tutto, non vi preoccupate, anche perché poi domani vi aspetto alle 4 con PopCore Time e sicuramente la settimana prossima ritorna anche Anteprima Live e parliamo di Joker, so che ve ne avevo già parlato a Venezia, ma adesso siamo più calmi, siamo più tranquilli, abbiamo modo di approfondire di più la discussione Joker, soprattutto non siamo in mezzo alla strada e non ci sono degli sconosciuti che ci inseguono o bambini che rompono le palle, quindi direi che Joker come film si merita un'anteprima live tutto suo, un approfondimento tutto suo, bello, calmo, tranquillo, senza rotture di balle in giro. Anzi, molto probabilmente lo vedrò per una seconda volta, sapete che io sono già impazzita, quindi non vedo l'ora di rivederlo una seconda volta, così sono anche più carica e più fresca. Allora, vi piace? Molto bene, a volte ritornano, a volte ritornano, tra l'altro terza stagione di BingeStream, incredibile, meraviglioso, proprio come le serie TV, anche BingeStream ha le sue stagioni e ufficialmente siamo in terza stagione, praticamente. Molto, 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 molto bene. Ciao il solo, ciao Black, buon pomeriggio a te, ciao giovani, ben ritrovati e bentornati. Allora, 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 oggi siamo qui perché vi parlo di una serie in anteprima, sapete che ogni tanto su BingeStream cerco di bilanciare, cerco per lo più di parlarvi di serie che avete visto anche voi per alimentare un pochino di dibattito, però ogni tanto mi fa anche piacere parlarvi in anteprima, spronarvi a guardare serie che arriveranno prossimamente, in questo caso parliamo di Dopodomani, il 27 settembre, arriva appunto su Netflix The Politician. Ryan Murphy, per la prima volta a Proda su Netflix, sapete che lui ha avuto, e ha tuttora, una grande relazione con FX in America, dove ha da sempre fatto i suoi American Horror Story e American Crime Story, poi, vabbè, ha fatto ta pose, meravigliosa, incredibile serie che dovrebbe arrivare la terza stagione, da noi mi sa che non è arrivata ancora la seconda, incredibile, vabbè. E tante altre serie incredibili ha fatto Ryan Murphy, io continuo a dire che per me è uno dei più grandi showrunner che abbiamo, insomma, papà creatore di Nip & Tuck, amato alla follia, in età in cui non avrei mai dovuto vedere, molto probabilmente, Nip & Tuck, papà anche di Glee, incredibilmente, incredibile, ma vero, ha un modo tutto suo di approcciarsi ai giovani, e lo vedremo soprattutto con questo The Politician, e poi un sacco di altre serie, film per la TV, grande vincitore di Emmy e Golden Globe, è una roba pazzesca, tutti adorano Ryan Murphy. Non dimentichiamovi, esatto, e inoltre, mi tocca seguire solo le live, perché non riesco mai a vederle, mannaggia il solo, non va bene così, però, non va bene. Ciao Acio, non sei in ritardo, avevamo appena iniziato, abbiamo iniziato veramente da pochissimo, quindi, per la prima volta Ryan Murphy a Proda su Netflix, si era già detto l'anno scorso che avrebbe preparato qualche serie, stava scrivendo una serie di serie TV per Netflix, The Politician è la sua prima serie. Chi mi segue sui social, chi mi segue su Instagram, e mi trovate nel caso con il nick Gabriele Croix, però, anche se digitate Gabriella Giliberti, esco lo stesso, sono io, sono sempre e comunque io. Avevo già visto da un bel po' questa serie, infatti avevo dato un mezzo indizio, però eravamo super super embargati, avevo dato un indizio estremamente sottile, ovvero avevo scritto su uno sfondo rosa con carattere bianco, quindi riprendendo un po' i colori, che stavo vedendo una serie Netflix fighissima, non potevo dire niente, che sarebbe arrivata a fine settembre. E quindi, ci siamo, siamo arrivati finalmente. Gran bella sorpresa, non sapevo minimamente che cosa aspettarmi da The Politician, ero molto molto curiosa, era sicuramente un registro molto diverso dalle ultime cose che aveva fatto Ryan Murphy, per carità, parliamo della stessa persona che ha partorito tanto Nip and Tuck quanto il Glee, quindi questi salti lui li fa, insomma. Negli ultimi anni si è dedicato tanto all'horror, al noir, al marcio, al macabro, con American Horror Story e American Crime Story, tra l'altro American Horror Story, la nuova stagione 1984, arriverà da noi il 7 novembre, avremo occasione di parlare anche di questo, e quindi, insomma, per Netflix ha creato qualcosa di nuovo, di estremamente diverso dal sole, anche molto diverso da Pose, comunque, sebbene ritornino quelle che sono le tematiche a cui Murphy ne è più legato, comunque anche all'interno di American Horror Story, ritorna molto spesso la diversità di genere, la diversità di gusti, di orientamento sessuale, nonché anche le problematiche all'interno dell'adolescenza, che sono molto molto importanti, disparità sociali, disparità politiche, sono una serie di argomenti che, rivisitati sotto generi differenti, ritornano sempre all'interno della serialità di Murphy, in questo caso, appunto, si parla, in un certo qual senso, appunto, di politica, ma anche di adolescenti. Guardando la serie, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata Glee che incontra House of Cards, che voi direte, ammazza, che mega paragone! Ebbene sì, ebbene sì, mi aspettavo una cosa molto più alla Glee, in effetti, invece, ha una maturità, una serie molto particolare, ha una maturità che, secondo me, rispecchia molto lo stile di House of Cards, questo modo di aggirare le persone, di pensare ai propri obiettivi, uno schema politico, di avere sempre un doppio fine in qualsiasi azione, si faccia, non c'è la rottura della quarta parete, però, ecco, a livello di struttura e di corse presidenziali durante un periodo di elezioni, anche se in questo caso parliamo, ovviamente, di elezioni studentesche, mi ha ricordato, non poco, sarò sincero, appunto, House of Cards, in un mondo, però, di adolescenti, il che è forse l'elemento più particolare di questa serie, l'elemento che più, insomma, incuriosisce, in un certo quel senso, e la fa sembrare una serie un po' stramba, un po' particolare. Ora sto immaginando Kevin Spacey che balla e canta, no, vabbè, nessuno balla e canta in The Politician, era per rispecchiare il fattore adolescenziale che era un pochino tipico di Glee, l'elemento ballare e canta, non è un musical The Politician, è una, anzi, più che una comedy, è un dramedy, è un vero e proprio dramedy, anche perché comunque si apre con, ha un'entrata molto in effetto, c'è un incidente scatenante, molto, molto violento, che non viene mostrato, ma si immagina facilmente, quindi, quindi, insomma, è Murphy, è Murphy, Ryan Murphy, ogni tanto dico Murphy, non mi dite niente, me sbaglio io, però è Ryan Murphy, Ryan, manco Brian, che durante la presentazione al festa di American Horror Story ero talmente tanto emozionata e convinta di quello che stavo per dire, che ho detto Brian e non Ryan, vabbè, insomma, c'è Greta in The Politician? No, non c'è Greta, nessuna Greta, nessuna Greta è stata maltrattata o messa nel mezzo a The Politician. Io direi che prima di andare avanti, di continuare a parlare della serie, vi faccio vedere il trailer, così se non sapete di cosa sto parlando, se non avete minimamente idea di quello di cui stiamo parlando, in questo modo potete farvi, insomma, un'ideuzza. Sono candidato a presidente degli studenti. Oggi sono fiero di presentarvi la mia candidata a vice, Infinity Jackson! Ha già un 80% di gradimento. E una fanpage su Instagram. C'è un video in cui sei stata ripresa mentre dicevi un insulto omofobo, sai per caso di che cosa parlo? Hai la minima idea di che ore sono? Silenzio, signora, stanotte non sono in vena. Chi hai detto sul video? Ha detto leccaculi. Ha dato a un reporter chiaramente gay delleccaculi. Accidenti! È tutto finito! I want that trophy Vedete, io diventerò presidente degli Stati Uniti. È solo un dato di fatto. Un giorno sarò presidente. Ti avviso, non mandare a puttare il mio sogno. La tua ambizione mi spaventa tanto. I want that trophy Questa scuola merita di meglio. Se vuoi batterlo, devi accettare la tua freddezza interiore senza rimorso. I want that trophy Va all'inferno, Peyton. Vogliamo Peyton molto più di te. Crede che dovrei ucciderlo? Crede che dovrei ucciderlo? Cosa? Sì, sì, è così. Non so ancora se io sono buono. Non devi essere buono. Basta che tu faccia cose buone. Parlami di quello che farebbe la differenza per te. Cos'è che ti sta buono? Non ci credo. Che sono una stronza spietata con il ghiaccio nelle vene? I want that trophy. Questa ragazza vorrebbe votare. Non può senza il tesserino. O potrebbero venire ragazzi da altre scuole a votare illegalmente. È una cosa assurda. Probabilmente Peyton è omosessuale. Astrid è una bigotta. Non capisco perché chiamare quel tizio gay un leccaculi abbia creato tanto scandalo. È quello che fanno i gay. Leccano culi e festeggiano Halloween. Dovremmo farlo assassinare. È troppo dato. Vincerò a qualunque costo. Voglio denunciare un reato. Sei stato tu, Peyton. Quanto è difficile provarci continuamente. Tu cambierai il mondo, Peyton. Come fai a sapere? Io voglio questo trophy. Insomma promette un bel po' di roba direi. Promette un bel po' di roba già dal trailer. Vi introduce già in quello che è il mood della serie. Appunto una serie con protagonisti dei giovanissimi ragazzi. Ma che vivono insomma tra l'altro di ricchissime. Qua non parliamo manco di borghesia. Parliamo proprio di un livello ancora più alto. Ma che ovviamente sono senza giochi di parole. Dei cinici bastardi pronti a tutto per arrivare al loro obiettivo. Già così giovani, già così affamati. Di arrivare assolutamente in cima perché sono stati anche educati in questo modo. Pronti a tutto. Quindi anche a superare determinati limiti. E pronti a sporcarsi letteralmente le mani. E quindi la serie già vi introduce in quello che sarà un linguaggio totalmente, completamente, politicamente scorretto. Cioè una roba proprio no? Bella, bella pesante. Che tra l'altro ha un contrasto meraviglioso, fantastico all'interno poi della serie in sé per sé. Perché poi dominano questi colori estremamente pastellosi. E questa atmosfera molto glamour, molto glitter. E queste case perfette, tutte appunto con colori neutri. Insomma è proprio Ryan Murphy all'ennesima potenza. Tra l'altro credo, senza sinceramente esagerare, che sia la serie, perché il pilot è ideato, scritto e diretto da Ryan Murphy. Credo che sia la cosa più bella mai diretta di Ryan Murphy. Perché il pilot è eccezionale, ragazzi. È diretto con una maestria e una precisione veramente, veramente incredibile. Vi fa entrare, a parte che vi sorprende fin dall'inizio la serie. Cioè veramente entrate con un'idea e ne uscite poi con una quasi completamente differente. Capite che non è semplicemente un teen drama. È qualcosa di molto più elevato. Qualcosa che si riferisce a degli spettatori molto più grandi. Anche con una maturità molto più ampia. Molto una mentalità anche più ampia. Mentalità che poi si rispecchia anche all'interno di quelle che sono state le scelte fatte da Ryan Murphy per fare questa serie tv. Non solo all'interno di una sceneggiatura e di una caratterizzazione dei personaggi. Giocando ovviamente con gli stereotipi, ma cambiando anche tante volte le carte in tavola. Ma continuando ad adottare una, chiamiamola strategia, anche se forse non è il termine esatto, di inclusione. Tant'è che così come in Pose, sapete la serie tv Pose è la prima serie tv mai esistita al mondo con il più grande cast di transessuali mai mai esistito. Quindi transessuali che ovviamente recitano la parte di transessuali. E all'interno di, come già è stato fatto anche in Sabrina in realtà, all'interno di The Politician, uno degli attori è un F2M. È un ragazzo in transizione. Quindi da nato biologicamente donna, ma appunto in transizione maschile. Quindi è sempre una persona, lui, estremamente aperta, estremamente inclusiva. Tematiche che poi rientrano anche all'interno delle sue storie. Quando sono storie originali, appunto, lo fa soprattutto con quelle che sono le storie create da lui. Quindi è molto più manforte in storie come Pose, The Politician o American Horror Story. Piuttosto che American Crime Story, che invece sono serie tv basate su fatti reali. Vedete o J. Simpson oppure il caso Versace. Quindi, i pilot film troppo spesso sono 10 livelli sopra il resto per ovvi motivi. Questo è ovvio. Io però la serie l'ho vista. Non ho visto solo il pilot. Ho visto tutta la serie e vi posso confermare che magari andando avanti un paio di alte e di basse ci sono, però tiene botta. Tiene botta praticamente dall'inizio alla fine. Su questo ve lo posso assicurare. Poi tra l'altro sono 8 episodi. 8 episodi lunghetti. Ecco la cosa, una delle cose negative che avevo notato. Una delle robe che a me meno piace di queste serie tv è che ha 8 episodi tutti con minutaggi differenti. È una roba che mi fa incazzare da morire perché non si sente tantissimo in questo caso, devo dire la verità. Ci sono state altre serie come per esempio Maniac in cui l'avevo sentito molto quando cambiava il minutaggio da un episodio all'altro. L'avevo proprio percepito. In questo caso soprattutto perché è una serie che si presta molto bene al binge watching. Veramente molto molto bene. Io e la regia eravamo praticamente stregati. Dopo il primo episodio pensavamo che avremmo visto solo un episodio, invece poi ne abbiamo visti tre in botta. Il minutaggio varia dai 60 a addirittura i 35 minuti. Per me è veramente tantissimo. È una differenza troppo troppo grande. È una roba che mi fa girare sempre tantissimo le palle. Ed è una roba tipica di Netflix. È una roba che Netflix può fare spesso. Io non la comprendo. Secondo me distrae molto lo spettatore. Poi vabbè, ognuno ha la propria sensibilità. A mio parere distrae molto lo spettatore. Se la serie ve la guardate in binge watching, magari ci fate meno caso. Perché appunto spesso e volentieri quando le guardate tutte di fila, poi con quei 5 secondi di stacco, uno fa meno attenzione al fatto che una puntata sia durata totta e l'altra meno. Quando magari invece le guardate a zompi, a saltelli, secondo me poi fa sembrare le puntate più lunghe ancora più lunghi. Non lo so, è una roba veramente terrificante che non mi piace. Ci sono diverse serie tv di Netflix che lo fanno. L'aveva fatto pure Altered Carbon, se non mi sbaglio. Roba di questo genere. Comunque la differenza è veramente tantissima. È veramente quasi mezz'ora praticamente. Quindi è proprio, proprio tanto, tanto, tanto. Ok, senza spoiler, ci sarà una seconda stagione? Assolutamente sì. Non l'hanno ancora confermata. Penso che aspettano ovviamente di... Anche perché io vi sto parlando di una serie vista in anteprima. La serie esce ufficialmente il 27 settembre. Quindi sicuramente però per come finisce, facendovi rodere un po' più, indubbiamente ci sarà una seconda stagione. Anche perché se no andiamo a fare un attentato sotto casa di Ryan Murphy. Direi che sarebbe l'unica solution in questo caso. Quindi sì, io penso proprio che ci sarà comunque a un finale che vi fa presagire, vi fa presumere che ci sarà una seconda stagione. Poi, se effettivamente sarà così o meno, lo vedremo, ma penso proprio di sì. Suppongo che verrà molto apprezzata come serie. È fatta veramente, veramente bene. Oltre al fatto che ha un cast incredibile e variegato. Un cast dove a spiccare ci sono tanto i giovani, che ovviamente sono i veri protagonisti. Come per esempio Ben Platt, che è Peyton, il protagonista. O anche Lucy Boyton, che avete visto per la prima volta in Bohemian Rhapsody, che faceva Mary. In questo caso è La Perfida e Austerastrid. Ma così come tutti gli altri personaggi, all'interno più giovane, all'interno della serie. È una serie estremamente attuale, dove si occupa di tante, tante tematiche. E, appunto, vi dicevo, differenza di genere, di etnie. Insomma, si si occupa di tanti argomenti. In modo a volte molto scorretto, anche molto ruffiano. Fatto tutto apposta, come vi dicevo prima. Usa lo stereotipo assolutamente a vantaggio della serie. Quindi lo stereotipo è messo a funzione del racconto, della narrazione, di tutti gli otto episodi. E funziona benissimo, è fatto veramente bene. Anzi, rende anche molto dinamico. Fa anche molto sorridere, poi, come scamotage usato di tanto in tanto. Ha dei dialoghi ben fatti. Io l'ho vista in lingua originale. È molto, molto bella in lingua originale. Poi, voglio dire, c'è Jessica Lange. È un peccato vedere Jessica Lange doppiata. Gustatevi Jessica Lange nella sua lingua, in lingua originale. Tra l'altro, grande ritorno di Jessica Lange, tra le mani di Ryan Murphy. Forse, in realtà, era già tornato in American Horror Story Apocalypse, se non mi sbaglio. Probabilmente, credo di sì, o no? Voto di memoria, non mi ricordo in questo momento. Però, insomma, lei è stata una delle grandi attrici feticcio di Ryan Murphy. Fino a certo punto, se non mi sbaglio, dopo la quinta stagione di American Horror Story, dopo Hotel, aveva smesso di fare American Horror Story, di fare comunque le serie TV di Ryan Murphy, se non mi sbaglio. Non per un motivo particolare, perché avessero litigato cose di questo genere, semplicemente capita a volte. Insomma, dice, no, dai, voglio fare altro. Passo la palla a... Insomma, quindi, grande ritorno in The Politician, accompagnata poi da Gwyneth Paltrow, che è meravigliosa, è fantastica. Fa la mamma di Peyton, è meravigliosa. Questa donna super amata. Cioè, questa donna ricchissima, che si è a ricchire, in realtà, grazie a un marito molto ricco, e che si dà un sacco da fare all'interno delle arti, per realtà una persona intellettualmente povera, molto sensibile, ma intellettualmente poi un po' povera, con apertamente bisessuale, che prende ogni tanto delle cantonate assurde e pazzesche, che ha questo amore spassionato per il figlio più piccolo, Peyton, appunto, perché poi ci sono altri due gemelli più grandi, stupidi come la merda, sembrano essere usciti dal cast di riccanza, veramente, come diceva, la merda nel cervello, uguali. Fatto apposta anche questo, fatto estremamente apposta, anche qui c'è dell'ironia sul mondo dei ricchi, figli dei ricchi, no? Questi che dovrebbero portare avanti il patrimonio, la grande eredità del padre, invece non sanno manco allacciarsi le scarpe e cose di questo genere, insomma. Quindi c'è anche una fortissima critica sociale, oltre che un'analisi politica molto interessante, che viene appunto fatta fin da quando si è giovanissimi. Quindi Peyton vive proprio come un obiettivo di vita, vincere queste elezioni, diventare il presidente scolastico, perché appunto gli serve proprio all'interno del suo curriculum, perché il suo obiettivo massimo è quello di diventare presidente degli Stati Uniti. E così come lui lavora al suo obiettivo, anche le persone attorno a sé, quello che il suo team di analitici, che gli studia appunto, gli fa i grafici, le cose, la sua stessa compagna che fa la sua first lady, lei dice io ho sempre sognato, io devo essere una first lady, quindi ti accompagnerò dall'inizio alla fine, pur mostrandosi questa relazione estremamente traballante, perché insomma Peyton sentimentalmente parlando è ancora un po' confuso, non è ben convinto di quelli che siano realmente i suoi gusti, anche perché ci sembra inizialmente una persona estremamente empatica, poi invece ci sembra estremamente fredda e calcolatrice, che tutto viene fatto per un obiettivo ben preciso. Quindi questo è molto molto bello, vi fa, secondo me in una chiave un po' ironica e un po' particolare, vi fa capire anche quello che poi è il mondo delle lezioni pilotate, delle persone messe dietro, i classici fantocci guidati da persone più potenti, e cose di questo genere. Quindi è molto, vi dà una panoramica americana, poi Ryan Murphy è sempre a quest'occhio, sempre molto critico nei confronti della società americana, e da questa panoramica molto molto interessante, molto molto suggestiva, in un quadro del tutto particolare, un po' strano, ecco. Poi, beh, figli della società d'Italia con tutta a disposizione, il no non esiste in loro vite, affrontare le privazioni per queste persone penso sia un trauma peggiore di un lutto per loro. Eh, vedi Acio, hai tirato fuori un argomento molto interessante, non voglio approfondirlo, perché vi rovinerei in realtà parte della serie, ma tenete a mente questa cosa che dice Acio, perché è una cosa molto particolare, che esce proprio fuori all'interno, fin dai primi episodi in realtà di The Politician, quindi vi... secondo me è parte della riflessione di Ryan Murphy, che l'ha portato poi a scrivere questa serie, deriva proprio da questa tua frase, appunto il non saper gestire un no, no non esiste, o o o voglio voglio voglio, mio mio mio, a tal punto da essere indifferenti di fronte a un lutto, però a volte dipende, insomma. Ecco, magari un lutto poi può essere una chiave di volta, può essere, no, un qualcosa per farci scattare, magari in modo positivo, o addirittura in altri casi in modo negativo, quello dipende sempre ovviamente, dipende sempre dalle persone, dal modo di interagire poi delle persone e così via. lol, tra l'altro sì, la battuta sui leccaculi è molto molto divertente, che in inglese non mi ricordo, comunque in inglese il senso è sempre questo, leccaculo, l'hanno reso bene in italiano, non mi viene poi il termine, che poi in realtà leccaculo, nel senso di lecchino, tra l'altro, magari per loro leccaculo è ancora più forte, ma noi per leccaculo intendiamo un lecchino, no, una persona che appunto è sempre, sì, 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 ne confronto il proprio capo, perché appunto è un lecchino, perché magari vuole arrivare chissà, chissà dove. Il me ne è che non mi pare fosse così tanta differenza, di minutaggio, io mi ricordo che c'era una differenza grossa, tra un episodio e l'altro, ma non mi sto ricordando, aspettate che controllo, però mi ricordo che c'era un episodio che durava 25 minuti in Maniac, e forse la durata media delle puntate era 40, 45 minuti, può essere, adesso controlliamo subito, 41, 47, 42, 37, 39, 40, 26 minuti, 29 minuti, 45 minuti, 37 minuti, madonna, non ho sballottamento, però Maniac è tutta così, devo dire la verità, invece The Politician è solo quell'episodio, beh un po' meno, sono 20 minuti rispetto all'episodio più lungo, che dura 47 minuti, 50 minuti, vabbè più o meno, sempre una quasi una mezz'oretta, eh Mattia, più o meno siamo lì, più o meno siamo lì, minuto più, minuto meno, ma bene o male siamo lì, è che magari in Maniac c'è più distanza, perché l'episodio di, a parte 26, 29 minuti, sono collegati, e prima ce n'era uno di 36 o 37, una roba del genere, però, insomma, il senso, a me danno molto fascino, non trovo sinceramente, più che altro condensa, è vero che Maniac era diviso in capitoli, però io non trovo assolutamente il senso, veramente il senso, Allora, vediamo se mi sono persa qualcosa, tra quello che stavate, sì esatto, magari vedendoli in fila, li hai, hai accusato meno il colpo, ma sicuramente anche in questo caso, vedendo tutto in fila, magari non ve ne accorgerete, ce ne, ce, ve ne potete accorgere molto di più, nel caso in cui, appunto, non fate a spizziche bocconi, ecco, bravo, era proprio quello, accio, era esattamente quello il termine, bootmatch, esatto, era proprio, proprio bootmatch, era esattamente quello, usa esattamente quel termine là, esattamente quel termine là, lol, è la testa talmente tanto infilata nel, esatto, bravo il solo, ottima definizione, definizione, dovremmo mandarla a tre cani, questa definizione, ottima definizione, hai guardato il trailer in inglese, ok, ok, in effetti, potevo farvi vedere il trailer in inglese, va bene, insomma, quindi, grande interpretazione, ve l'ho già detto, degli attori, in particolar modo, per Payton e Astrid, Ben Platt e Lucy Boynton, vabbè, è inutile parlarvi, secondo me, di Gwyneth Paltrow, o della meravigliosa Jessica Lange, che tra l'altro, pure lei, cioè, una nonna, approfittatrice, a livelli estremi, proprio, a livelli massimi, una roba incredibile, è bravissima, vabbè, meravigliosa, è una dea, di che cosa stiamo parlando, Jessica Lange, tra l'altro, questi vestiti leopardati, sembra essere uscita un po' dal Jersey Shore, lei invece, è fantastica, con questa nipote, malata di cancro, anche lei, attrice famosa, Zoe, Zoe, Deutsch, è scritto come, si dovrebbe pronunciare tedesco, in tedesco, anzi, no, è Germania, no, quella è Deutschland, Deutsch, tedesco, Infinity Jackson, appunto, e la nonna è Dusty Jackson, quindi, lei è carina, lei è caruccia, questa attrice è sempre molto caruccia, sentavo riconoscere, o al meglio, l'avevo riconosciuta, ma nella serie, è talmente tanto dimagrita, è talmente tanto strana, che, inizialmente ho pensato, no, al massimo è la sorella gemella, più piccola, la sorella più piccola, non può essere lei, perché lei invece, mi è sembrata più formosa, ecco, in altri film, o in altri, per esempio, in altri videoclip, se mi sbaglio, lei nel videoclip, perfect di LA, imperfect di Ed Sheeran, vabbè, vabbè, in altri contesti, mi era sembrata diversa, invece qua è molto, molto piccola, molto, molto piccola, dici che Netflix, il prossimo anno, se la batterà con Prime Video, agli Emmy, per la miglior serie comedy, chissà, chissà, devo dire la verità, rispetto a HBO, e Prime Video, Netflix ha fatto, veramente, molto, molto poco, quest'anno, agli Emmy, inevitabilmente, ha fatto, molto, molto poco, e Prime Video, secondo me, ora come ora, è il più forte competitor, o comunque, la più forte piattaforma, on demand, a livello di contenuti, di qualità, originali, che esista, perché obiettivamente, serie come, Fleabag, Fleabag, o la meravigliosa, signora Maisel, o anche, la stessa The Terror, non ce ne sono, non ho ancora, visto Andone, sono molto, curiosa di vedere Andone, ne stanno parlando, tutti benissimo, tutti, veramente benissimo, quindi, voglio assolutamente, vedermi anche quella, la devo vedere, la vedrò, magari settimana prossima, ora vediamo, di che ho un po' di serie, di cui vorrei parlarvi, quindi, non so ancora, precisamente, di cosa parleremo, settimana prossima, ero un po' indecisa, magari, o se riesco a vedere Andone, anche se c'è già, la recensione, il nostro, Simone Di Gregori, lì, su, su Lega Nerd, oppure, se vi parlo di Marianne, che pure potrebbe essere, molto interessante, ci sto pensando, tu e ti stai finendo, rivedere Andone, bella no? Molto figa, vero? Stiamo dicendo tutti, che è proprio una bomba, è davvero, davvero una bomba, secondo te, su Detective 3, l'altezza della prima stagione, di Night, questa domanda, mi sa che me l'avevi già fatta, e ti avevo già risposto, allo stesso modo, purtroppo, io la terza stagione, non l'ho vista, non l'ho ancora vista, non ho proprio avuto modo, di vederla, anche perché, le serie HBO, escono su Sky, io non ho Sky, e mi rifiuto, di dare i soldi, all'apparecchio di Sky, adesso non mi viene il nome, di come si chiama, perché lo trovo, di una qualità infima, sono abituata, troppo bene, con Netflix e Amazon, e mi rifiuto, di pagare, altri soldi, per un servizio, di, no TV, ecco, no TV, mi rifiuto, di pagare i soldi, per un servizio, con la qualità, così bassa, certo, peccato, perché la roba HBO, esce sempre su Sky, quindi, devo trovare, trovo ogni volta, mezzi alternativi, e più delle volte, quando devo trovare, mezzi alternativi, mi dimentico, bluf, mi siete appatezzato, per colpa della polvere, mi dimentico, faccio prima, a comprarmelo, e a vedermelo, comunque, appena uscite in Blu-ray, la terza True Detective, l'ho comprata ieri, e probabilmente, potrei fare così, probabilmente, questo potrebbe essere, un modo, per, lo penso, allo stesso modo, non dare mai un euro, a Naughty V, capito, è questo il problema, qui non avendo Sky, perché, ci abbiamo pensato, tante volte, a farci Sky, ma appena, non lo sfrutteremo, abbastanza, sarebbero dei soldi, veramente buttati, è un peccato, perché magari, ce l'hai la giornata, di nulla facenza, e passi la tua vita, un po' su Fox, a partire, ma Fox, sta pure sparendo, quindi, qualcosa te la vedi, ma, ora, obiettivamente, per, poi, quelle due, tre serie tv, davvero fighe, di HBO, che escono durante l'anno, non ne vale, poi così tanto la pena, pagarsi proprio Sky, cioè, veramente, sarebbero soldi buttati, perciò, la pensa, qualità streaming, da videocassetta, esatto, audio pessimo, interfaccia app, ridicola, esatto, proprio per quel motivo, proprio per quel motivo, si, capito, poi, l'offerta di Sky, veramente igno, ma tra l'altro, le ignobili o meno, io comunque, lo sport, non lo guarderemmo, e, non, la parte cinema, cioè, non avrei il tempo, di sfruttare, un pacchetto così grosso, perché, costa, non avrei proprio il tempo, di sfruttare un pacchetto così grosso, come Sky, sarebbe veramente, uno spreco, insomma, direi che preferisco, come si dice, finanziare altro, aspettare la piattaforma, tra Warner Bros e HBO, così poi, mi potrò guardare, anche la HBO, perché ormai, praticamente, manca solo quella, in tutta tranquillità, sulla loro piattaforma, appunto, e, comunque, il 2020, solo Prime Video e Disney Plus, beh, io, no, non credo, che per me, sarà solo Prime Video e Disney Plus, per ora, per me, il 2020, sarà ancora Prime Video e Netflix, non me ne voglio a Disney Plus, ma, momentaneamente, sulla carta, non ha ancora, un pacchetto, che mi convinca, a spendere, 7 euro, al mese, poi, vabbè, per carità, 7 euro al mese, non sono niente, ma, non lo so, non mi comprano, con, la, The Mandalorian, che arriverà, da loro a novembre, facendo uscire, Disney Plus, da noi a febbraio, o marzo, comunque, arriverà, 8 mesi dopo, io, The Mandalorian, l'avrò già visto, qui lo dico e qui lo nego, ma, io, The Mandalorian, molto probabilmente, l'avrò, l'avrò già visto, quindi, non, per quanto mi piacerebbe, avere il tempo, di guardarmi tutti i giorni, i cartoni animati, non ce l'ho, quindi, non, per ora, non hanno un'offerta, tale, da dirmi, addirittura, da rinunciare, a Netflix, per loro, cioè, io vedo molta più roba, su Netflix, Netflix, lo accendo, tutti i giorni, e ho comunque, per carità, a volte non tutte, di qualità, rispetto a, ripeto, per quanto riguarda, i prodotti originali, Amazon Prime Video, batte Netflix, 10 a 0, il più delle volte, però, continuo a guardare Netflix, cioè, io, anche Prime Video, vado su Prime Video, principalmente, perché devo guardare, qualcosa, Netflix, è la mia televisione, il mio quotidiano, praticamente, io, cioè, ho sempre qualcosa, di nuovo, da guardarmi, che sia roba, bella, o roba brutta, poi, Netflix, ve l'ho già detto, ha la sua fucina, solo per Venezia, perché tutti i film, che arriveranno, a scaglioni, tutti e 4, e 3, i film, che ho visto, di Netflix, a Venezia, uno, più bello, dell'altro, tutti meravigliosi, tutti fantastici, veramente, robe, esagerate, per quanto riguarda, le serie tv, o, nel caso, di The Politician, ogni tanto, ci sono serie tv, veramente belle, veramente, da gustare, da guardarsele, anche, da riguardarsele, e come è capitato, anche in altri casi, Mindhunter, prendete, voglio dire, Mindhunter, grande serie, di Netflix, ci sono altri casi, in cui si rimane, molto più delusi, Baby, per esempio, Elite, altro esempio, insomma, ci sono serie, un po', della merla, su Netflix, ce ne sono un bel po', per carità, è in dubbio, a me non dispiace, manco Titans, non vedo l'ora, di vedere la seconda, stagione di Titans, adesso l'avevo rivista, la prima, che però non l'ha vista, e l'avevo vista, un po', a spizziche e bocconi, l'ho rivista per bene, Titans mi piace, è veramente un botto, quindi c'è tuttora, su un, su due robe, non riuscite, una roba sarà riuscita, io me la sarò guardata, e mi sarò guardata, pure la roba non riuscita, vedi Lucio, gli u, ho visto pure gli u, vedo la casa di carta, cioè io, vedo tu, ho sempre qualcosa da vedere, su Netflix, quindi insomma, non, non potrei proprio, cioè, ora come ora, Disney+, almeno nel mio caso, non mi dà un'offerta, che mi batte quella di, di Netflix, momentaneamente no, quindi, direi che per ora, il problema non me lo pongo, poi una volta in cui, vedrò, wow, ci sono cose proprio, formidabili, incredibili, se facendo piangere Gesù, ah vabbè, guarda, sono agnostica, credo più in Satana, che in Gesù, quindi direi anche un po' sti cazzi, se Gesù stia piangendo, in questo momento, buon compleanno Gesù, come direbbe, Fellon, cioè, mi vuoi privare di Dynasty, io non posso vivere, senza Dynasty, il solo, non potrei mai, vivere senza Dynasty, quindi, direi che, come faccio a privarmi di Netflix, e privarmi della mia dose, di trash, bello con Dynasty, cioè, insomma, l'offerta Disney Plus, al lancio, è un'offerta, per le famiglie, per chi ha i pupetti, per chi ha i pupetti a casa, per chi deve, non può prendersi la babysitter, e parcheggia il pupetto, davanti, alla, alla televisione, di cose originali, ce ne sono poche, interessanti, per carità, ma ripeto, rispetto a quando arriverà da noi, Disney Plus, al lancio, quella roba, tutti noi l'avremmo già vista, non fate santi, perché non ci credo, che qualcuno di voi, sia disposto, ad aspettare, tre mesi, per vedere, The Mandalorian, tre, quattro mesi, dai raga, non ci credo proprio, esatto, quindi, ti denuncio, oppure io denuncerò te, vai dai il solo, voglio proprio vedere, come sopravviverai, per quattro mesi, agli spoiler, su The Mandalorian, tu non lo guardi, beh, giusto, ci credo, ci sto proprio credendo, Netflix è molto più vario, Disney Plus è solo family, esatto, non ci troverai nulla, che possa essere visto, da un bambino, fottuta a casa, di troppo lì, non ci troverai nulla, che non possa, esatto, esatto, io voglio ricordare, Gabriella si vede, sta robaccia sul Netflix, ma ancora non ha visto Breaking Bad, già già, già già, comunque vi ricordo, che siamo su Lega Nerd, e non siamo sul mio canale, quindi, va bene, adesso, chiudiamo, qui la live, anche perché, insomma, quello che dovevamo dire, su The Politician, l'abbiamo detto, sì, ma occhio a non disminuire, Disney Plus, ad un mero contenitore, di classici Disney animati, sì, vero anche questo, però, per ora, l'offerta di lancio, e questo, e poco più, di roba un pochino, più interessante, The Mandalorian, in reality, su Jeff Goldblum, ha una serie di, no, al lancio però non c'è, per ora, in futuro, arriveranno una serie di serie tv, sui supereroi, di cui io, sinceramente, ne posso fare almeno, cioè, tanto amore per Shilk, ma, anche meno, e, quindi, non, non so, momentaneamente, è un mero contenitore, di cartoni animati, poi, ovviamente, nel corso di, diventerà qualcosa di più, però, appunto, al lancio, a differenza di Netflix, che l'abbiamo letteralmente, preso al lancio, almeno, io e la regia, preso subito, il giorno dell'uscita, Disney+, dubito fortemente, che lo prenderò, il giorno dell'uscita, fino a quando, non mi dà, delle alternative, giuste, interessanti, non, non penso che, per quanto, 7 euro, possono essere risori, però, insomma, direi che, posso, metterli, per ora, in, in altro, avevi detto, che Anthony Mackie, è un bel culo, ho mai detto, una roba del genere, ti stai confondendo, con qualcuna, delle mie colleghe, non, Anthony Mackie, per quanto sia, un bell'attore, non, non, vorrei esprimere, un concetto, ma, ho paura, di risultare, è un bel e bravo attore, vorrei esprimere, un concetto, ma, ho paura, di risultare, razzista, non vorrei mai, risultare razzista, per una banalità, quindi, diciamo, che non rientra, nel mio canone, di gusti estetici, ecco, quindi, è molto difficile, che io abbia fatto, un apprezzamento, sul suo sedere, veramente, molto, molto difficile, Sì, ma, a livello di catalogo, che cosa, che cosa c'è, oltre ai cartoni animati, oltre al, che per carità, adoro alla follia, oltre ai film Disney, quindi, live action, quindi, i film super supereroi, live action, di cui faccio a meno, supereroi, di cui faccio, altrettanto almeno, cioè, io di originale, Disney plus, cosa mi sta veramente offrendo, in più, da convincermi, a dare quei soldi, addirittura, da rinunciare, a uno, delle mie altre, altre piattaforme, cioè, è quello, che io non, per ora non ho, il giorno in cui, mi arriverà, una cosa del genere, allora, ok, però, un mese di prova Disney plus, non ti costa nulla, vabbè, un mese di prova, sì, però, appunto, posso fare il mese di prova, e poi capire, quanto in effetti, io ho acceso Disney plus, è ovvio, che farò, questa prova, la farò, assolutamente, assolutamente, farò questa prova, mi sembra, mi sembra ovvio, ma proprio, per constatare, per capire, quanto io vedrò Disney plus, cioè, è proprio per quello, e poi, per, in soldoni, capire, se vale la pena, o non vale la pena, secondo me, non vale la pena, ora come io, senza aver fatto l'ora come ora, da quello che vedo, per me non vale la pena, è stata la Serafini, l'avrò detto la Serafini, probabile, lo diste la Serafini, lol, che è un programma, prima che esca il cammino, perché vorrei tanto la tua recensione, sì, non vi preoccupate, sto già recuperando, non vi preoccupate, non vi fate venire così tanta ansia, allora, ah, questo è quello che dovrebbe uscire, su, 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 su Disney plus, cosa sto vedendo, sto vedendo, cartoni animati, serie tv, cartoni animati, film sui supereroi, serie tv sui supereroi, cartoni animati sui supereroi, Clone Wars, Rebels, quindi, serie tv animate su Star Wars, altri live action, altra serie tv sui supereroi, altri cartoni animati, cartoni animati, cartoni animati, live action, cartoni animati, Pirati dei Caraibi, vabbè, Transitions, cose brutte, che comunque non vedrei, cartoni animati, Anna Montana, film sui supereroi, film sui supereroi, cartoni animati, cartoni animati, Origins, questo è nuovo, cartoni animati supereroi, cartoni animati supereroi, ok, Star Wars, serie cartoni animati su Star Wars, film molto vecchi della Disney, Disney, iMuppets, ok, film della Disney vecchi, film brutti della Disney, tipo Alice dentro lo specchio, raga, lo state vedendo pure voi, vero? Non lo so, vedendo solo io, cartoni animati supereroi, cartoni animati supereroi, e cartoni animati supereroi, è questo, ah, ci sono anche gli X-Men, degli anni 90, esatto, c'è anche, c'è anche roba Fox, e, roba adulte, esatto, voglio robe adulte, robe adulte non ci sono, però non vedo robe adulte, Infinity Wars lo guarda pure mio fratello, quindi, di 5 anni, ah, Ocus Focus, per Ocus Focus, mi avrete, c'ho il Blu-ray, film dove Heath Ledger era molto giovane e molto vivo, perdonate la battuta, ma ci stava, genitori in trappola, Inumans, mamma mia, Inumano da vedere, Live Action della Bella e la Best, vabbè, tutti gli Star Wars, giustamente, che avremo tutti, in Blu-ray o in DVD, comunque, vabbè, niente, per ora, è, è, è questo, cioè, per ora, sono, film, serie tv, cartoli animati, del brand Disney, qualcosa, qualcosina, di Fox, non vedo ancora i Simpson, forse li ho persi, comunque, insomma, momentaneamente, così, non mi compra, e serie tv, perdone, sì, capito, esatto, io, io sono molto contenta, che Disney apra la sua piatta, cioè, è più da vedere, sui prodotti originali, secondo me, perché, come ora, il catalogo, verte su quella che è la filmografia della Disney, no, l'importante filmografia della Disney, è ovvio, che ora verte tutto su quello, secondo me, bisogna vedere, stare facendo, nell'asso di un anno, quelli che saranno, i prodotti originali, se i prodotti originali saranno abbastanza, da convincere, poi, molte persone, a abbandonare, a farsi, prima di tutto, l'abbonamento, e addirittura, ad abbandonare, una delle altre piattaforme, considerando che, Amazon ha il grande vantaggio, Prime Video, ha il grande vantaggio, di rientrare in un pacchetto più grande, quindi, neanche, te ne accorgi, di pagare Amazon Prime Video, sembra quasi che te lo stiano regalando, gratuitamente, perciò, ovvio che il pericolo, è un pericolo per Netflix, ma Netflix non si sta affasciando il capo, per il semplice motivo che, per ora, cioè, credo che Netflix, guardando questo catalogo, dica, vabbè, ok, contento tu, contenti tutti, per ora, poi magari, tra un anno, le cose cambiano, ah beh, allora, se fanno Esco il musical, la serie, e mi sa che mi conquistano, sì, esatto, 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 va bene, va bene, comunque, ok, va bene, giovani, va bene, io direi che chiudiamo qui la live, vi ricordo, The Politician, esce su Netflix, il 27 settembre, quindi, dopo domani, vedetelo, 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 vi assicuro che, non ve ne pentirete, noi con Binge Stream, ci rivediamo, settimana prossima, invece qui su Lega Nerd, ci vediamo domani, alle 4, quindi sempre alle 16, con Popcore Time, vi ringrazio per avermi seguito, per averci seguito, mi raccomando, se non l'avete fatto, seguite il canale, abbonatevi al canale, io sono Gabriella, mi trovate anche su Twitch, e su tutti gli altri canali social, ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie!